La voce dell'Agenzia, rubrica di informazione fiscale a cura dell'Agenzia delle Entrate Emilia Romagna. Biagio Cunzolo, Sabrina Arcangeli e Gianfranco Mingione, dagli studi della web radio dell'Agenzia delle Entrate dell'Emilia Romagna vi danno un cordiale saluto. Benvenuti all'interno di questa ennesima puntata del nostro radiogiornale. I titoli delle notizie. Lotteria degli scontrini, ecco le regole di invio dei dati per le estrazioni. Per partecipare all'estrazione è necessario che i consumatori al momento dell'acquisto comunichino il proprio codice lotteria. Fatture elettroniche, più tempo per aderire al servizio di consultazione. È possibile poter effettuare la propria scelta entro il 20 dicembre 2019. Un consulente in famiglia in settimana saranno rese note sui siti dell'Agenzia delle Entrate dell'Emilia Romagna e dell'Ufficio Scolastico Regionale le classi individuate e quali destinatarie delle attività. Ripartono in Emilia Romagna gli incontri con i cittadini per spiegare in cosa consistono le agevolazioni fiscali in tema di ristrutturazioni edilizie, risparmio energetico e bonus mobili. Ebbene entriamo all'interno di ciascuna delle notizie. Sono state definite le istruzioni per l'invio dei dati e degli scontrini che parteciperanno alla lotteria da parte degli operatori che dal 1 gennaio 2020 comunicheranno i corrispettivi tramite i nuovi registratori telematici o la procedura web dell'Agenzia delle Entrate. Con un provvedimento del direttore dell'Agenzia sono state indicate le modalità tecniche per la trasmissione delle informazioni contenute sugli scontrini e specificate le caratteristiche del file generato dal registratore telematico. Esclusi fino al 30 giugno 2020 i soggetti già tenuti all'invio dei dati al sistema tessera sanitaria come medici e farmacie. Entro il 31 dicembre 2019 tutti i modelli di registratori telematici e la procedura web messa a disposizione nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate sono configurati per consentire la trasmissione dei dati necessari per la lotteria degli scontrini. Vedi legge del 232 del 2016. In particolare nel momento in cui viene effettuata l'operazione tali strumenti permetteranno di acquisire anche tramite la lettura ottica il codice lotteria del cliente. Quest'ultimo è un codice identificativo univoco che il consumatore finale genererà sul portale della lotteria. Fino al 30 giugno 2020 non possono però partecipare alla lotteria i corrispettivi certificati tramite i registratori telematici dei soggetti già tenuti a inviare i dati al sistema tessera sanitaria. E lo ricordiamo i documenti commerciali interessati dalla trasmissione sono solo quelli utili alla lotteria infatti per poter partecipare all'estrazione è necessario che i consumatori al momento dell'acquisto comunichino il proprio codice lotteria direttamente all'esercente esprimendo così la volontà di partecipare al concorso. Nel corso della giornata e al momento della chiusura giornaliera i registratori telematici generano il record composto da tutti gli scontrini corredati di codice lotteria dei clienti per poi trasmetterlo direttamente all'agenzia delle entrate. Ricordiamo che le operazioni di memorizzazione di trasmissione telematica dei corrispettivi devono essere effettuate mediante un registratore telematico RT cioè un registratore di cassa che può connettersi a internet. Oppure tramite la procedura web denominata documento commerciale online presente nel portale fatture e corrispettivi dell'agenzia delle entrate. Comunque per maggiori informazioni è possibile consultare la guida che è disponibile sul sito dell'agenzia delle entrate nella sezione l'agenzia comunica nell'area tematica fatture elettroniche e corrispettivi telematici oppure nelle clip presenti sul canale youtube entrate in video. I dati naturalmente i dati acquisiti dall'agenzia delle entrate saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali secondo il principio di necessità attraverso particolari sistemi di elaborazione come preventivamente concordato con il garante della protezione dei dati personali. Fatture elettroniche più tempo per aderire al servizio di consultazione. È possibile effettuare la propria scelta entro il 20 dicembre 2019 e online sul portale fatture e corrispettivi la funzionalità che consente agli operatori IVA di aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche reso disponibile dall'agenzia delle entrate. Stessa opportunità anche per i consumatori finali che possono sottoscrivere all'adesione al servizio nell'area riservata di Fisco Online. Per accedere al proprio archivio di fatture elettroniche trasmesse fin dal 1 gennaio 2019 è necessario comunque aderire al servizio di consultazione entro il prossimo 20 dicembre. Il nuovo termine è stato fissato da un provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate che modifica quello precedente del 30 maggio. In questo modo si amplia così la finestra temporale precedentemente prevista. Gli operatori IVA possono comunque comunicare l'adesione anche tramite un intermediario appositamente delegato al servizio di consultazione. E ci trasferiamo direttamente alle notizie a carattere regionale. Un consulente in famiglia in settimana saranno rese note sui siti dell'agenzia delle entrate dell'Emilia Romagna e dell'ufficio scolastico regionale le classi individuate. Quali destinatari delle attività? Le istituzioni scolastiche che hanno presentato la propria manifestazione di interesse al progetto Un Consulente in Famiglia entro questa settimana conosceranno le classi destinatari di questo progetto. L'informazione sarà resa nota attraverso i siti dell'agenzia delle entrate e dell'ufficio scolastico regionale. Poi si procederà alla stipula delle singole convenzioni bilaterali tra direzioni provinciali dell'agenzia delle entrate ospitanti e le scuole ovviamente individuate. Un consulente in famiglia, lo ricordiamo, è un percorso di 100 ore che affianca alla consueta sensibilizzazione sulla legalità fiscale e una sezione laboratoriale dedicata alla dichiarazione dei redditi online, il cosiddetto 730 precompilato e due settimane di stage presso gli uffici territoriali e gli uffici provinciali territorio dell'agenzia delle entrate. Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare anche il referente regionale del progetto, la signora Sabatini Tiziana, al numero telefonico 051-6103-037 oppure tramite posta elettronica all'indirizzo tiziana.sabatini-agenzia-entrate.it Ebbene, rimaniamo in regione, ripartono in Emilia Romagna gli incontri con i cittadini e per spiegare in cosa consistono le agevolazioni fiscali in tema di ristrutturazioni edilizie, risparmio energetico e bonus mobili. I funzionari dell'agenzia delle entrate dell'Emilia Romagna spiegano ai cittadini quali sono le agevolazioni fiscali in tema di ristrutturazioni edilizie, di risparmio energetico e bonus mobili e come fare a beneficiarne, quali sono i termini e rispondono anche alle domande dei contribuenti. Gli incontri sono tutti aperti al pubblico e con ingresso libero. Proseguono in Emilia Romagna con questo calendario. Mercoledì 13 novembre 2019 alle ore 16.30 a Piacenza, presso la Biblioteca Comunale Passerini-Landi in via Carducci 14. Inoltre, giovedì 14 novembre 2019 alle ore 16.30 a Parma, presso la Sala Salsi della Biblioteca Guamda, in vicolo dell'asse 5. Gli obiettivi del progetto, lo ricordiamo, sono spiegare in generale le agevolazioni fiscali sugli immobili, rispondere ai dubbi più frequenti anche in riferimento alla compilazione della dichiarazione dei redditi precompilata, rafforzare la vicinanza dell'Agenzia delle Entrate ai cittadini contribuenti. Ebbene, era questa l'ultima notizia del nostro radiogiornale, della web radio dell'Agenzia delle Entrate dell'Emilia Romagna. Sabrina Arcangeli, Biagio Kunsole, Gianfranco Mingione, vi danno il cordiale saluto a tutti e risentirci alla prossima. Grazie ancora. Grazie a tutti.